È necessaria una pulizia interiore. 3 dicembre 1977 Figli di Letti, sia pace a voi! Ecco, sono qui per confermarvi che tutto ciò che avete detto e sentito, entra nella volontà di Dio, che vi ha dato luce perché possiate capire ciò che necessita la società moderna. Non avete che da approfondire personalmente, e tirare le conseguenze per un lavoro d'apostolato sempre più profondo ed efficace. Io vi ripeto, come un eco, le parole di Giovanni Battista, preparate la via del Signore, per dirvi quanto è necessaria la vostra azione. Essa deve essere tanto audace, come lo è quella di Satana e dei suoi satelliti, perché possa impedire il dilagare del male. Voglio però ricordarvi la necessità di fare una pulizia interiore quanto mai profonda, per realizzare quella purezza che forma l'attrattiva del Padre. Non fermatevi, figli, alla superficie, ma vedete di scoprire la radice dei vostri difetti, perché il lavoro di risanamento diventi più facile. Sappiate che la luce che parte da un'anima in grazia, che traduce questo dono infinito nella purezza delle intenzioni, dei desideri, degli affetti e delle opere, non può rimanere come la lucerna sotto il moggio, ma deve illuminare e attrarre al bene tutti coloro che entrano a far parte del suo piccolo mondo, per proiettarsi su tutte le anime. Quando poi l'ardore del vostro zelo vi porta a prodigarvi per il vostro prossimo, io stessa divento la vostra accompagnatrice ed animo le vostre azioni, così da renderle ricche di risultati spirituali. Quella pulizia che realizzerete nelle vostre anime, sia completata dal lavoro di sgombro che farete nelle vostre case, togliendo tutto ciò che può essere di incentivo al male. Io vi prego di distruggere tutto ciò che sa di pornografia e di sporco, perché nell'ordine morale e spirituale entrino a far parte di ciò che vi è più caro, quei libri e quegli insegnamenti che vi aiutano a salire dalle cose della terra a quelle del cielo. La vostra buona volontà e una santa audacia vi facciano interpreti anche presso quei giornalai che, forse a loro insaputa, si rendono responsabili di molti peccati fatti dai lettori. Se vi è cara l'aria pura, è veramente il purificare l'aria da tante oscenità che renderà, a giovani ed anziani, più facile il respiro e più serena la vita. Offrite spesso a Dio, con la mia purezza, quella degli innocenti, dei bambini di tutto il mondo, perché possa essere un mezzo per ottenere il perdono di tante colpe. Figli, mentre vi invito a fare tutto ciò che è in vostro potere per risanare la società ed il mondo, non posso non dirvi la gioia di vedervi qui come fiori di delicato profumo che ornano il mio altare. Vi dico perciò, siate lieti, perché la vostra serenità deve essere una prova, che la vostra vita è pura e la vostra fede è vera. Se la tristezza del male vi può turbare, sappiate che Dio non cambia per questo, e che egli resta e sarà sempre la bontà, l'amore, la sapienza e la felicità infinita. Chi lancia bestemmie verso di lui, è come lo sciocco che getta delle pietre sopra il suo capo, pensando di abbattere il sole. Figli, benedico tutti voi, in particolare, le coppie di sposi. Benedico i vostri nascitori. Abbiate fede. Vi tengo sotto il mio manto e vi aiuterò sempre. Arrivederci, figli. La mia solennità vi porti la gioia e la beatitudine dei puri di cuore, e vi permetta di conoscere ed amare Dio con maggior serietà e profondità, senza venir meno alla semplicità.